Ti avanzano 5 euro dalla colazione di oggi per te e la tua fidanzata che ti ha lasciato e non sai cosa fare? Potresti iscriverti al mio Patreon per andare a vedere l'analisi di Medical Property Trust che ho pubblicato domenica scorsa, magari leggerla e imparare qualcosina su questa azienda. E se magari non ti interessa questa azienda, potresti anche sperare che nelle prossime settimane io vada a pubblicare qualcosa che interessa a te. Per cui, tuffiamoci in questa analisi, che ricordo è full per chi è iscritto al Patreon, mentre nell'analisi di oggi, che è per voi dedicata, che mi seguite su YouTube, è in parte parziale. Cominciamo! Ed eccola qui l'analisi aggiornata a dicembre 2023 in cui troveremo delle informazioni che sono particolarmente nuove nel senso che l'ultimo aggiornamento, l'ultima notizia che ho trovato, credo che sia intorno al 15 di dicembre per cui cosa frisk frisk! Prima di tutto, come sempre, andiamo a vedere l'indice di questa analisi dal vario discramer parliamo dell'azienda di per sé, dell'industria di riferimento, dei competitors dei risultati degli ultimi 10 anni, fattori positivi e negativi del mercato di riferimento e per cui degli healthcare rates e dell'azienda stessa, Medical Property Trust investimenti pianificati per il futuro, dividendo, fair price e tutte le fonti che ho utilizzato per realizzare questo studio. Il discramer ve lo lascio un attimo a schermo ma ve lo potete leggere facendo stop o pause. Parliamo dell'azienda che è un'azienda quotata, appunto, un healthcare rate dal 2003 e che ha sede a Birmingham, in Alabama. È un'azienda che offre soluzioni di finanziamento per delle strutture sanitarie, altrimenti non sarebbe un healthcare rates. A settembre 2023, data dell'ultimo aggiornamento trimestale, disponeva di 44.000 posti letto in 10 nazioni diverse, con disponibilità che sono formate da 441 proprietà per un valore totale di circa 19 miliardi di dollari americani. Le nazioni in cui è piazzata, oltre agli Stati Uniti d'America, sono Regno Unito, Colombia, Italia, Germania, Svizzera, Portogallo, Australia e Finlandia. Eh, dove fa freddo? L'azienda ha 56 inquilini totali che vanno a spartirsi queste 441 proprietà, ma i primi 6 si vanno a spartire la maggioranza di queste proprietà sia in termini di fatturato che appunto di numero di immobili. E qui lo possiamo vedere, i maggiori inquilini, ve li dico io, sono Steward Healthcare, Circle Heart, Priory Group, Prospect Medical Holding. E come possiamo vedere questi dati sono leggermente sbilanciati, e leggermente è un eufemismo ironico perché il 55.7% del fatturato sui 56 operatori totali viene generato dalle prime 6 aziende, cioè quasi un 60% dalle prime 6 aziende. Non mi sembra proprio una gran bella diversificazione. E lo possiamo vedere anche qui, anche in termini di fatturato per nazioni. Il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America vanno a occupare quasi il 90% del portafoglio, il 67% per quanto riguarda il revenue degli Stati Uniti e il 26% per il Regno Unito, e il 62% per quanto riguarda gli asset negli Stati Uniti e il 22% nel Regno Unito. Anche qui c'è una diversificazione, ma solo sulla carta. Mentre il discorso negli Stati Uniti è un po' più diversificato, ma poco cambia. Parliamo dell'industria di riferimento. Ci sono 15 società immobiliari di healthcare, come RIT, che sono quotate sul mercato americano con circa 125 miliardi di dollari di valore di mercato. Queste hanno subito un durissimo colpo durante il Covid-19, per cui ci sono adesso delle riprese, ma non per tutti i settori, solo per alcuni sottosettori, come le residenze degli anziani, che hanno rimostrato una difesa più forte. Mentre altri, come gli edifici per gli studi medici di base, hanno faticato molto di più. E nonostante alcuni progressi, nel breve termine, questo settore potrebbe ancora essere impattato parecchio e male. Per cui c'è una ripresa molto disomogenea per quanto riguarda i sottosettori degli healthcare RIT. La maggior parte dei RIT healthcare hanno dei contratti triple net, NNN vengono detto, che significa semplicemente che la maggior parte dei costi sono a carico dell'inquilino. Però alcuni dubbi di salute finanziaria sugli inquilini fa certamente preparare l'idea che i contratti triple net sono sicuri ma solo sulla carta, perché se poi è un inquilino del cavolo, non serve assolutamente a niente. Poi c'è anche una situazione di carenza di personale, e questo ve lo lascio leggere nel report. Purtroppo dopo la pandemia è stato continuato a essere sottopagato e molti non vogliono fare più questo mestiere, né specialistico né generico, e per cui non si trovano infermieri da mettere in queste strutture che perdono anche qualità del servizio e quindi perdono anche clienti. E questo è un qualcosa che va migliorato. Infatti, come possiamo vedere in questa ultima parte della sezione nel report, secondo il rapporto dell'Ufficio di Statistica del Lavoro, chiamato YOLTS, il numero dei posti vacanti nella categoria assistenza sanitaria e assistenza sociale ha raggiunto un picco a marzo di quasi 2.000.000, ma è diminuito di circa il 23% attraverso il più recente studio, rapporto di luglio. Corrente anche con altri rapporti sull'occupazione, è il commento dell'industria che suggerisce che il peggio della crisi del lavoro sta attenandosi, potenzialmente rimuovendo uno dei venti più immediati sugli operatori. Ma non è ancora risolto. Come dicevamo prima, i competitors quotati sul mercato americano sono 15, ristati nel Fuzzi-Narit US Real Estate Indexes. Al momento l'indice ha una media del dividendo del 5.2%, con una performance del 2023 che dovrebbe assestarsi a meno di scossoni finali fra lo 0 e il 2% positivo dell'indice health care rates, dopo aver ceduto nel 2022 quasi un meno 22,5%. Alla fine del 2022, prima delle enorme scossoni sui prezzo, Medical Property Trust è del quinto REIT in termini di market cap. Al momento, purtroppo, il prezzo è calato tantissimo ed è calata anche la sua posizione in termini di market cap, credo che sia intorno all'ottavo posto. E il problema è che alcuni concorrenti, come Ventas o Welltower, hanno una diversificazione maggiore in termini di tipologie di strutture, mentre Medical Property Trust, come altri, ha delle strutture meno diversificate e quindi risente di più di eventuali scossoni nel suo particolare settore. Ed ha anche da dire che, con questa discesa di market cap, i primi tre REIT quotati fra i primi 15 hanno la maggioranza sia in termini di market cap che in numero di effettivo di immobili disponibili. E purtroppo la maggior parte di questi REIT sono sconosciuti a noi investitori europei. Diciamo che, per quanto riguarda market cap e propendenza a essere, diciamo i player maggiori di mercato, abbiamo un 50% per Welltower, un 21% per Sabra Healthcare, poi abbiamo un 9% per Omega Healthcare e poi tutti gli altri fra il 4 e il 3%, fra cui anche il nostro caro Medical Property Trust che dovrebbe essere intorno all'ottavo posto. Poi abbiamo i nostri risultati sui 10 anni, sia per quanto riguarda i nostri dati finanziari, fatturati, per quanto riguarda il balance sheet e per quanto riguarda infine il cash flow aziendale e come potete andare a vedere nel report, se lo andate a acquistare o comunque a vedere da abbonati, potete anche andare a vedere che effettivamente Medical Property Trust ha delle metriche che sono in calo continuo da anni. Quali sono i fattori positivi? Sicuramente nel settore una crescita costante della domanda dei servizi sanitari, perché stiamo tutti invecchiando e stiamo invecchiando male, e una elevata redditività di REIT per ovviamente i locatari che vanno a pagare gli affitti perché generano un reddito elevato per i propri investitori. Un altro fattore positivo per quanto riguarda gli healthcare REIT che sono leggermente più regolamentati dei REIT normali, ovviamente perché vanno a gestire la salute delle persone, e ovviamente sono fattori positivi che sono propri di Medical Property Trust, tipo le vendite immobiliari hanno paventato lo spettro del fallimento perché c'era una grossa carenza di qualità, per cui c'è più cassa in questo momento, e il fattore tassi che nel 2024 potrebbe cambiare in maniera positiva per tutti i REIT, ma ovviamente anche per Medical Property Trust, che potrebbe tarnere i benefici e di andare a difinanziare a dei costi minori i propri debiti, sempre che glieli diano, perché passiamo ai fattori negativi. Prima di tutto i tassi di interesse, che è vero che potrebbero calare nel 2024, ma potrebbero anche non farlo, e per cui si potrebbe trovare in una situazione in cui un REIT fortemente indebitato come Medical Property Trust potrebbe anche non accedere a nessun fondo, a nessun finanziamento, perché non ha i soldi per pagare neanche quelli che ha adesso. Poi ricordiamoci anche che i REIT sanitari hanno una forte propendenza ad essere usurati, perché hanno delle strutture grosse in cui vengono utilizzati dei macchinari particolarmente importanti, e le strutture devono essere sempre pulite in ordine, anche perché l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti è privata, e se uno paga non vuole stare in un tugurio con le blatte. Per quanto riguarda appunto Medical Property Trust parlavamo di debito, e la situazione debitoria rispecchia una gestione pessima da parte del management in termini appunto di gestione finanziaria. Infatti Medical Property Trust ha tantissimi debiti che sono in scadenza nel 2025 e nel 2026, e se i tassi di interesse rimangono ai livelli attuali, beh, Medical Property Trust sarà costretta a rifinanziare un tasso al di sopra del 13%, sempre che i soldi glieli diano. E come ben sappiamo, le casse dell'azienda in questo periodo sono risicate, perché ha dovuto vendere immobili tanti per rimpimpare il proprio cash flow. Poi abbiamo anche una causa legale molto importante in corso, ne ho parlato in precedenza sul canale, che potrebbe anche essere deleteria, magari la coltellata finale nei confronti di Medical Property Trust, anche perché il 21 dicembre, ed è questa la notizia di cui parlavo molto recente, il giudice distrittuale degli Stati Uniti per il distretto di Delaware, un certo Leonard P. Stark, che non è Mr. Stark, non è Iron Man, ha rispinto alla richiesta di Medical Property Trust di archiviare la class action, e per cui, da un certo punto di vista, questo vuol dire che il giudice vede che qualcosa effettivamente potrebbe essere stato fatto in maniera subdola contro i propri investitori. E qui possiamo vedere delle brutte, non delle belle. Un'altra cosa che mi mette il dubbio è che il management, pur avendo un tasso di prezzo molto basso negli ultimi 12 mesi, non ha mai fatto un acquisto, un payback, né dal punto di vista aziendale, né dal punto di vista dei grandi manager, dei proprietari, e questo mi puzza un po'. Una cosa anche molto brutta è che l'azienda sta vendendo asset e non sta acquistando, non sta pianificando nessun acquisto, e ragazzi, se non si acquista e non si va a rimpolpare quello che è il cuore di un REIT, cioè il cash flow dato dagli immobili, beh, non vedo dove possono prendere i soldi. Parliamo di dividendi, un dividendo più o meno intorno all'11% coperto col 75% degli adjust fund from operation, un dividendo sostenibile nel piccolo periodo, nel medio periodo non lo so, nel lungo sicuramente no, perché i debiti continuano ad accumularsi e a un certo punto l'azienda non avrà più soldi. Attualmente la distribuzione è di 15 centesimi con cadenza timestale, mentre prima del taglio di giugno è di 29 centesimi, una bella scure è arrivata sul dividendo, dimentica il proprio C-stas. Unico vantaggio è che da 18 anni l'azienda comunque ha sempre pagato il dividendo e non ne ha mai saltato uno. Certo tagliarlo non è bello, te lo dice Rigadello. Un'altra notizia dell'ultima ora è che anche se Medical Property Trust sta lavorando per ridurre il suo debito e andare in una situazione finanziaria migliore, proprio il 15 di dicembre il suo credit rating è stato ultimamente abbassato da Standard & Poor's Global. Infatti Standard & Poor's Global ha abbassato il rating di credito dell'emittente da BB a B+, mamma mia! E il rating di livello di emissione delle sue obbligazioni senior, non garantite, da BB+, a BB-. E il rating di recupero è 2. Io non la vedo tanto bene, anche perché l'outlook da parte di Standard & Poor's Global è negativo per il futuro. Infine il fair price, e questo vi faccio vedere solo la schermata di come lo calcolo, non vi dico cosa c'è dentro. È un prezzo fair price alla data del 17-12, calcolato come dividend discount model, valutazione affo mediana fra i competitors, prezzo storico sull'FFO, e poi anche il prezzo indicato dai 12 analisti, i primi 12 analisti che hanno analizzato questa azienda. Ho fatto la media eliminando il valore più alto e il valore più basso, e ho ottenuto un prezzo. Anzi, ne ho ottenuti due in realtà. Uno, che va a guardare solo i dati effettivamente monetari, e un altro, che ho inserito, che va a guardare anche la sua situazione in termini di management di mie prospettive future. Per cui troverete due prezzi che possono essere analizzati se andate a prendere questo report. E infine tutta la bibliografia che ho utilizzato per la realizzazione di questo report. Per cui vi ricordo che se non volete fare una colazione, oggi o domani potete sempre investire questi 5 euro nel mio Patreon per sostenere me, il canale, il mio lavoro, perché questo è il mio lavoro principale, e andare a ottenere anche ogni 2-3 settimane questi fantastici report che faccio scegliere a voi tra l'altro, perché questo report è venuto fuori da un sondaggio che avevo lanciato sia su YouTube che sul mio canale Telegram, che trovate anche non in descrizione. No, non lo trovate in descrizione. Ricordandovi che questi non sono consigli a investire o non investire, ma solo dei spunti di scopo didattico e di approfondimento, in ogni caso, se questo video ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollice in su. Poi se sei nuovo sul canale, magari ci passavi e dici ma chi è questo? Beh, cosa puoi fare? Puoi iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per cui entrare a far parte in questa famiglia. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. A presto!